Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video qui sul mio canale. Di cosa parliamo? Parliamo di Kodi e nello specifico quelli che secondo me sono gli add-on che anche per questo 2024 dovete installare su Kodi. Questo media player che io amo tantissimo e che vi permette di accedere a tantissimi contenuti streaming online. Disclaimer mi raccomando anche in questo video io vi mostrerò esclusivamente contenuti legali perché è bene utilizzare questo strumento delle grandi potenzialità sempre nel pieno rispetto della legge. Prima di andare a farvi vedere quelli che sono gli add-on che io vi consiglio anche per questo 2024 di installare sulla vostra applicazione Kodi mi raccomando questo è il momento di sostenere il mio canale e per farlo è molto molto semplice. Vi basterà iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella così da rimanere aggiornati sui miei prossimi contenuti perché è importante che facciate questo piccolo sforzo per me perché questo aiuterà a crescere il canale e quindi di conseguenza mi permetterà di investire risorse sulla creazione di nuovi contenuti. Allora andiamo a vedere quali sono gli add-on che non possono mancare su Kodi in questo 2024. Andiamo! Allora quali sono gli add-on che vi consiglio di installare sul vostro Kodi? Principalmente add-on di terze parti che vi suggerisco di utilizzare sono due. Intanto cosa intendo per terze parti? Si tratta di add-on non ufficiali di Kodi, dopo però andremo a vedere come riuscire a scaricare anche quelli ufficiali. Sono due, io non utilizzo tantissimi anche perché secondo me appesantisci Kodi se cominci ad installare add-on a destra e a sinistra e soprattutto la maggior parte di quelli che si trovano in giro, se non seguite il Kodi vago sono illegali e pericolosi. State alla larga da quei contenuti. Allora gli add-on che vi suggerisco di installare per questo 2024 sono sicuramente World Live TV Helper ovvero un add-on che vi consentirà di una volta installato andarvi a vedere tutti i canali di digitale terrestre direttamente sulla vostra file tv stick naturalmente potete farlo tramite una connessione ad internet ma solo e soltanto fate bene attenzione se vi trovate sul territorio nazionale italiano se invece siete all'estero naturalmente causa geoblocking avrete bisogno di una VPN ci sono davvero tutti questo è utilissimo soprattutto in quei casi in cui non c'è la possibilità di collegarsi ad un'antenna tradizionale. Secondo add-on non tanto per importanza è sicuramente Kodi on demand sempre degli stessi sviluppatori di World Live TV Helper che cosa fa Kodi on demand vi mette a disposizione una sorta di motore di ricerca all'interno del quale potrete andare a ricercare decine di contenuti come film serie tv serie anime cartoni animati davvero di tutto e lo potete ricercare per titolo per film per attori o attrici eccetera eccetera davvero un add-on completo vi faccio vedere un esempio andiamo a scrivere all'interno della tastiera il titolo di uno dei film che volete per esempio andare a vedere io inserisco questo perché uno dei miei film preferiti eccoci qua il titolo lo vedete a schermo una volta cliccato su ok in automatico andrà la ricerca di tutti quelli che sono i contenuti che in questo momento ci sono online dedicati a questo film e vi permetterà naturalmente di andarvelo a vedere torniamo indietro vi ho detto che questi sono add-on non ufficiali ma c'è naturalmente la possibilità di andare ad installare anche quelli ufficiali di Kodi ce n'è qualcuno interessante seguitemi allora per andare a ricercare gli add-on ufficiali dovrete spostarvi sulla sinistra scorrere sull'icona a forma di ingranaggio dopodiché dovrete andare su add-on poi installa da repository tutti i repository add-on video ed ecco qua l'elenco in ordine alfabetico di tutti gli add-on che potete installare e che sono ufficiali per esempio un add-on che vi suggerisco di andare alla ricerca e di installarlo eccoci qua vediamo se lo troviamo senza dubbio Mediaset Infinity lo installerei come add-on per il 2024 e poi andrei ad installarmi eventualmente RaiPlay Dopodiché se amate lo sport sicuramente Red Bull TV e poi vi voglio far vedere una cosa interessante altri add-on preferisco non suggerirveli come per esempio l'installazione di Pluto TV, Plex TV internamente a Kodi ma eventualmente direttamente sulla vostra chiavina esterna per lo streaming che sia la Fire TV Stick Unbox Android nel caso di Kodi perché vi suggerisco di non farlo perché World Live TV Helper offre una funzionalità davvero incredibile una volta che ci siete entrati dentro se noi andiamo su selezione lista vedrete sulla destra che ci sono già archiviati all'interno di questo add-on le liste di tutti i canali di Pluto TV, Samsung TV, regionali, radio, web radio, Rakuten TV, Dtt Radio quindi tutti i canali radio digitali terrestre, Relax TV un altro portale streaming nuovo che si sta facendo l'arco e WeDo TV per cui avete tutto a disposizione direttamente su questo add-on ecco qua quindi gli add-on che vi suggerisco di installare per questo 2024 su Kodi come avete visto non sono tantissimi gli add-on che vi suggerisco di installare su Kodi anche perché in questo modo lo terrete leggero gli permetterete di gestire la cache un elemento che può influenzare negativamente le prestazioni quindi l'utilizzo di Kodi e naturalmente la visione dei contenuti che vi mette a disposizione e soprattutto perché sono quelli che secondo me racchiudono un po' tutto quello che ci si aspetta da un add-on all'interno appunto di questo media player direi che per il momento è tutto, vi ricordo se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, iscrivetevi, ho bisogno del vostro sostegno per il momento è tutto, Andrea Meni alias Dozzivago vi rimanda al prossimo contenuto ciao a presto